All'inizio con Ferrari fu un po' dura perché trovarsi fra i piedi sto ragazzino, poi a poco a poco direi che prima lo conquistai col mio impegno, si rese conto che mi impegnavo molto e seriamente, dopo forse anche un po' con la qualità del lavoro, cioè l'impegno e la qualità. Alla fine, devo dire, per lui mi sentivo come un figlio, mi ricordo in certe occasioni che lui mi dava il braccio, io glielo prendevo ed era un atteggiamento proprio di affetto.